Musica Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il Magazine in un quadro climatico assolutamente anomalo. Abbiamo visto effettivamente una fine d'ottobre ed un novembre, soprattutto all'inizio, tambureggianti dal punto di vista delle precipitazioni con fenomeni alluvionali che hanno interessato sia la Liguria che la zona del Lazio, che la zona della Sicilia e anche poi la Sardegna e l'Alto Veneto e il Trentino. Il Piemonte, diciamo che sinora è stato parzialmente risparmiato con le sondazioni solo di alcune zone lacustri, ma vedremo che cosa ci riserverà il futuro con l'arrivo imminente della neve. Stavamo parlando appunto di brutto tempo, stavamo parlando di anomalie climatiche e in questa anomalia si inserisce un argomento estremamente interessante che rappresenta il rischio meteorologico delle zone italiane, anche della nostra e della tua zona, sottoposta magari a rischio di eventi che possono essere alluvioni, possono essere frane, possono essere temperature estreme sia minime che massime, possono essere eventi molto dannosi come grandinate e violente. Tutto questo deve essere fatto in base a una valutazione, deve essere fatto in base a dati climatologici, ma anche a dati della morfologia del terreno e soprattutto di tutto quello che è successo nel passato. Il rischio meteorologico non deve essere confuso con quello che è invece un'allerta di tipo meteorologico, che è un avviso emanato dagli appropriati enti su quello che potrà succedere nelle prossime ore o nei prossimi giorni di fenomeno rilevante con un codice che può andare dal rosso al giallo all'arancione a seconda dell'intensità dell'evento previsto, ma il rischio evidenzia quelli che possono essere gli impatti che queste fenomenologie avverse estreme possono avere sia sulle cose, sulle persone, sulle proprietà dal punto di vista infatti di sia danni materiali a cose e persone. Ne avremo modo comunque di riparlare, ora godiamoci le previsioni sul lungo termine di Giorgio Di Francesco e poi un interessante video del World Meteorological Organization che ci spiega l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia perché sono necessari i meteorologi, che cosa fanno, come fanno a sviluppare le previsioni e soprattutto spiegano un po' tutto il mondo che ruota attorno al discorso del dato della previsione meteorologica dal mondo dell'agricoltura, dal mondo della protezione civile, dal mondo delle assicurazioni. Effettivamente tutti quanti siamo interessati a diversi livelli delle previsioni meteorologiche che possono spaziare dal tempo libero ad esempio l'offerta dell'energia in borsa. State con noi. Ben ritrovati amici con le stagionali in relazione al mese di dicembre 2018. Il quadro di anomalie insomma in pressione ci evidenza delle forti forticità sul settore nord atlantico con canali di ingresso secondario dall'area bassa atlantica a settore iberico sud della Francia parzialmente con alcune saccature che potrebbero intrudere sul Mediterraneo soprattutto la porzione centro-occidentale. Anomalie positive invece sul settore nord europeo, anomalie veramente calde soprattutto sull'area scandinava mentre discese d'aria fredda repentina potrebbero riguardare il settore russo con parziali sconfinamenti verso il settore europeo soprattutto nella prima parte del mese di dicembre. Per quanto riguarda il quadro delle anomalie della nostra penisola evidenzia soprattutto un trend con frequenti sbalzi della temperatura in particolare al centro-nord alcune nevicate nei passaggi instabili sul scomparto alpino una fase fredda possibile nella prima parte del mese ma in un contesto tutto sommato mite mitezza che si sentirà principalmente sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda il quadro delle anomalie in relazione al CFS ci evidenzia proprio una struttura di bassa pressione anomalie negative sul settore oceanico che si allunga sul basso atlantico Mediterraneo terra di scontro con bolla calda presente soprattutto le alte latitudini europee e settore scandinavo mentre irruzione d'aria fredda che incominceranno a farsi sentire sull'Europa orientale interessamento solo parziale della parte occidentale del continente.